Buongiorno a tutti, allora proseguiamo la nottatona del Gigione con il campionato francese e le schedine alternative del Gigione per il campionato francese. Si parte sabato, cioè oggi, alle 17 con Auxerlil 2. Poi c'è la sfida libidide, ma ne parliamo tra un attimo. Bene, 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 sfida libidide ragazzi, sfida di grande libidide. Lens-Monaco, terza contro quarta. Sapete benissimo che in Francia, ahimè per loro e fortunatamente per noi, di squadre in Champions, ne vanno due, le prime due, con volo diretto, la terza deve fare un turno preliminare, uno solo, l'ultimo, però va a beccare una squadra che, appunto, arriva dai campionati migliori e quindi vuol dire che va a affrontare una terza, una quarta, anzi una terza del campionato portoghese, olandese, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ha delle sfide non facili. Ha la fortuna di evitare comunque squadre inglesi, tedesche, spagnole e italiane, quindi ci sono quelle degli altri, ma comunque fare un preliminare non è mai semplice, puoi beccare un Porto, puoi beccare un Benfica, puoi beccare uno Sport in Lisbona, per dire le portoghesi, puoi prendere una Z, un Ajax, un Feyenoord, quindi squadre toste. Il che vuol dire che già ti giochi il terzo posto, ne vanno solo tre, e in più devi fare il preliminare, quindi questa è una sfida che vale l'Europa, che conta. Chi perde delle due rischia di andare in Europa League e di non giocare la Champions e in ogni caso rischia lo stesso perché devi fare il preliminare. Comunque, l'Ens Monaco 1x di questo può approfittare l'Il quinto perché comunque l'Il non è molto distante dalle altre due. perché se andiamo a vedere la situation abbiamo Monaco, Lens, Olympic, Marsiglia vicinissime, solo in tre punti, il Lille è a sei punti dal Monaco e a otto punti dal Lens. Quindi, signori miei, per lui cambia poco, deve augurarsi in un pareggio e sperare di vincere, per avvicinarsi, perché capite benissimo se il Lens dovesse vincere rimani comunque a otto punti, quando cavolo lo prendi. Siamo già alla trentaduesima giornata, ne mancano solo sei, più questa, però ripeto, se il Lens batte il Monaco, ciao, non lo prendi più. Quindi il Lens deve augurarsi un pareggio e poi deve vincere lui. Lill che appunto sfida l'Osserl. Proseguiamo con le gare di domenica. Reims-Strasburgo, ottava contro diciassettesima. Ero tentato a mettere l'uno fisso, anche perché il Reims si sta giocando, ma direi poco e nulla, perché se non erro la finale della Coppa Francese ci sono due squadre che non entrano neanche tra le prime, c'è il Dante e un'altra squadra, il che vuol dire che, ahimè, per loro i posti validi per un posticino in Europa sono solo fino al quinto posto. E quindi anche perché la Coppa di Francia, se non sbaglio, la gioca appunto il Nantes e un'altra squadra che non è fortissima, che è l'Ide, non tra le prime. Tant'è che vado a controllare la finale, la finalissima, la finalissima, la finalissima, eh, dove la metto, vabbè, comunque ci dovrebbe essere il Natto, il Tolosa, se non sbaglio. Solo che qua, giustamente, dove i metto, vabbè, allora andiamo direttamente a vedere finale, perché così facciamo prima. Finale 2023, eh, così è meno. Tolosa-Nant, Tolosa-Nant dovrebbe essere la finale. Esattamente, il 21, no, il 29 aprile. Quindi sono due squadre che sono fuori dalle prime. E, naturalmente, chi vince se ne va in Europa lì, felicemente, la quinta se ne va in Conference. Quindi, il Reims non è che a granché da chiedere ormai al campionato, è ottavo, lontano dal quinto posto, che in questo momento è detenuto dal Lille. Il Reims è a 47 e il Lille a 55. Quindi capite che una possibile, anche un buon pareggio per lo Strasburgo, è fattibile. Perché il Reims non ha nulla da chiedere al campionato, però, contemporaneamente, non penso che deliberatamente perde in casa come un curucu contro lo Strasburgo. Quindi, 1x. Nant, 3. Qua metto l'1 fisso, perché il Nant è ancora in zona pericolo. e quindi ha bisogno di fare punti, perché ha solo due punti di vantaggio sul resto di Strasburgo. Il Troyes, così come l'Aiaccio, sono a limitare ormai nella serie B francese, perché hanno ben 10 punti, anzi 8 punti, no, 10 punti di differenza dal Nant e dal Brest, che sono appaiati a 31, in quindicesima e sedicesima posizione. il Brest è sedicesima per la differenza reti peggiore rispetto al Nant. Indi, per cui, ragazzi miei, questa è l'occasione per il Nant per allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa della serie B e per condannare definitivamente una delle sue possibili papabili squadre che lo seguono, che lo inseguono, che sperano di raggiungerlo per salvarsi. Indi, per cui, ho messo l'1 fisso. quindi Nant Trois 1, non me ne vogliono i tifosi del Trois. Agiaccio, Brest, questa è, ragazzi miei, come dicevo, l'Aiaccio come il Trois ha 21 punti, il Brest ne ha 31, però, proprio perché ci sono 10 punti di differenza, eccetera, eccetera, forse l'Aiaccio potrebbe approfittare per cercare magari di vincere, accedere una fiambellina di speranza, ma ragazzi miei, anche se vinci vai a 24, ti porti a 7 punti dal Brest sedicesimo che è l'ultima squadra a salvarsi, perché dalla diciassettesima alla ventesima vanno tutte in Serie B, però, signori miei, il Brest deve anche stare attento perché il Racing ha due punti, quindi dipenderà molto anche dalla partita del Racing che gioca con lo Stad Rains prima di questa gara e quindi, sapendo il risultato del Racing, il Brest potrebbe gestirne in una maniera particolare, se il Racing dovesse fare punti, lui deve cercare di non perdere con l'Aiaccio, quale ora il Racing dovesse perdere, magari vanno in campo con Emma, tanto con quelli hanno perso, questi sono a 10 punti, lasciamo di anche vincere perché tanto non ci cambia niente, comunque 1-2, però, se la giocate dopo, dopo magari la partita del Troyes, soprattutto dello Strasburgo, guardate il risultato, perché se lo Strasburgo dovesse perdere, diciamo che magari il pareggio al Brest potrebbe andare bene uguale, potrebbe andare a giocarsi una gara tranquilla senza sprecarsi più di tanto, porta a casa il pareggiotto, che vuol dire un altro punto in più sul Racing, perché comunque la Iaccio in casa è sempre una squadra non facile da affrontare, perché ci danno dentro, poi vabbè quello che è la classifica lo dice chiaramente, però in casa qualche punticino pesante l'hanno portato a casa. Proseguiamo con le partite di domenica, si parte alle 15 con tre partite belle secche, si parte di San Clermont 1, donna contro undicesima, qua c'è sempre la questione motivazione, il Clermont non ha granché da chiedere al campionato, il Lizza 45 punti, ebbè un pensierino potrebbe anche farlo, certo 45 6 a 10 punti dal Lille, però tentando il Clermont non ha più nulla da chiedere al campionato, quindi 1, l'Orientolosa 1x, anche se questa è una gara che mi puzza di pareggio ma veramente tanto, proprio perché anche l'Orientolosa ormai ha buttato via le sue chance di giocare in Europa, ha fatto un inizio di campionato da libidine e poi è crollato letteralmente forse perché boh, boh, è perché effettivamente giocano solo la domenica, avessero avuto le coppe, uno dice magari si sono stati no, aveva giocato solo la domenica, girone di andata da libidine poi il crollo, comunque giocando in casa eccetera, non penso che perda Coltolosa l'1x ci sta tutto e il pareggio potrebbe andare bene a tutte e due alla fine della fiera. Montpellier standard red allora il red si sta giocando le sue chance di andare almeno in conference è a due punti dal Lille mentre il Montpellier tredicesimo ha la bellezza di otto punti di vantaggio sul resto di Strasburgo. Io metto l'1-2 perché comunque il pareggio al re non serve. Al Montpellier potrebbe anche andare bene ma gioca in casa quindi giocherà per fare la sua partita per vincere proprio perché non avendo nulla da perdere il campionato perché è lì tranquillo può giocare con la mente sgombra eccetera eccetera quindi 1-2 anche qui. Infine Lione Marsiglia la settima contro la seconda e qua il discorso cambia perché comunque Lione è a 50 punti a 5 punti dal Lille quindi non è una distanza siderale giocare con il Marsiglia non sarà semplice ma ormai il Marsiglia deve pensare più a tenere il suo secondo posto che vuol dire Champions diretta che non a pensare allo scudetto visto che ormai il Paris Saint Germain ne ha più 11 con una partita in più perché ha già giocato con l'Hangers solita vittoria di misura va sul 2-0 poi prende il gol io credo che su 32 partite che si sono giocate in questo campionato penso che almeno in 24-25 partite il Paris Saint Germain ha preso gol e forse sono anche poche perché di partite in cui il Paris Saint Germain non ha preso gol ne ho contate veramente poche infatti consigliavo sempre il gol più over col Paris Saint Germain proprio perché segna sempre un paio di gol due o tre gol li fa però ne prende sempre uno e spesso e volentieri lo prende subendolo praticamente andando sotto poi la ribalta con calma ma intanto sono più forti però spesso e volentieri magari la partita primo tempo 0-0 inizio secondo tempo stegna l'altra squadra risveglio giramento di Maroni del del Paris Saint Germain strappo nel senso non muscolare ma dallo strappo per rimontarla 10 minuti due o tre gol fatti chiuso il discorso comunque Lione Marsiglia 1-2 proprio perché questa è una partita in cui Lione ha bisogno di vincere il Marsiglia ha bisogno di vincere perché Allens è attaccato al Sederino a 63 e il Monaco a 61 quindi sono lì tutte e due e non può permettersi di perdere perché se no uno lo sorpassa e l'altro non lo raggiunge quindi 1-2 andiamo alla schedina alternativa Oxer Lille gol dato a 1,80 Lesbord gol più over perché ragazzi qua io mi aspetto una bella partita ricca di gol quindi gol più over dato a 1,97 Reims Strasburgo over 2,5 data a 1,83 Dantroix over 2,5 data a 1,80 Ajaccio Brest gol perché qua l'1-1 minimo viene fuori quindi gol Nizza Clermont gol dato a 1,87 il gol di Ajaccio Brest è dato a 2,05 quindi anche una quota abbastanza interessante Nizza Clermont gol dato a 1,87 l'Orient l'Orient l'Osa gol più over dato a 1,90 ed è una quota abbastanza bassa per un gol più over Montpellier St-De Rennes over 2,5 data a 1,83 infine Lione Marsiglia gol più over data a 1,81 vale lo stesso discorso che facevo per Lens Monaco cioè anche qui mi aspetto una bella partita ricca di greti di gol di occasioni di parate dei portieri eccetera eccetera due squadre che non si rilassano ecco per intenderci che se la giocano proprio a viso aperto alla grande detto questo mi sono dilungato ancora troppo chiedo Venia vi saluto vi ringrazio adesso c'è da preparare il campionato italiano vedremo vedremo perché è già partito bene il campionato italiano partito da libidide ciao